Buongiorno, mi chiamo Lorenzo Bellini, sono un architetto e ci troviamo all'interno dello stand della Selva alla Fiera del Mobile di Milano. Sono seduto su una poltrona che ho disegnato per questa nuova collezione Walder. Quello che abbiamo voluto fare con la Bergera è quello di creare uno spazio intimo, racchiuso, lavorando i due materiali, il legno e la pelle, che costituiscono gli elementi fondamentali di tutta la collezione. Ho pensato innanzitutto di creare dei rapporti tra i vari materiali, in questo caso il legno e la pelle, lavorati in modo più moderno. Le linee sono più tirate, meno bombate. Partendo da questi dettagli ho voluto pensare di come trasportare questo concetto anche sul mobile, sulla credenza, sul tavolo, su tutti gli oggetti che poi alla fine fanno parte di questa collezione. Partendo dalle Bergera che ho disegnato già per Selva, questa è la terza che abbiamo disegnato, una in contemporanea con Downtown, un'altra per la Vendome, in cui ci rivolgevamo al passato con un occhio al presente. In questo caso abbiamo voluto partire dal presente e andare più verso il futuro. Grazie a tutti.